In questo momento, diciamo, dedicato, vorrei sottolinearmi su questo argomento, su questo argomento sulla qualità, questo è uno dei pilastri del nostro sistema, uno dei pilastri è il riferimento, il secondo pilastro è la qualità, questo tipo di lavoro che ha fatto vedere, il servizio di investimento in bicicletta è trasmesso giornalmente, quindi parlo di noi, intanto abbiamo la possibilità di ottenere consulenza a 360 gradi, questi movimenti sono sui grafici, questi movimenti sono i giorni di attività, noi ogni settimana abbiamo i report su questi report che pianificiamo. Grazie mille. Grazie mille.